ciao amici stamattina faccio un piccolo video della campagna questa è la casa dei nostri genitori guardate che belli questi fiori bellissimi questo vlog lo dedico a tutti voi perché ho visto che siamo arrivati a quota 500 500 iscritti wow grazie grazie a tutti si vede che i miei video vi piacciono ok sentire gli uccellini c'è un albero bellissimo qui una bete l'abbiamo piantato tanti anni fa queste sono le violette guardate che belle vittorio che abbiamo ancora le arance ma queste sono ancora buone queste arance queste sono le camellie di mamma che belle bellissime ah e qui abbiamo gli asparagi bello aspetta aspetta no vittorio ci facciamo una frittadina con questi frittadina ok eccoli questa è una prugna in fiore bene amici questo vlog finisce qua un vlog un po particolare ci vediamo al prossimo video cercherò di mettercela tutta ho visto che i video con il pane il pane con la pasta madre si anche i dolci sono molto seguiti mi fa piacere che vi piacciono lo vedo dai vostri commenti cercherò di impegnarmi al massimo per fare altre ricette ciao amici ciao ci vediamo presto ciao ciao